Ehi la ciurma! Io sono MazzeTest e ben ritrovati qui in questo nuovissimo episodio di MindTest It! Allora, piccolo rassunto di tutto quello che è successo nel frattempo e sono state un sacco le cose che sono successe nel frattempo. Come potete vedere ho spostato i macchinari dentro, in più ci ho messo praticamente tre ore ma li ho gradati tutti, sono tutti medium voltage e ho aggiunto anche il compressor che mi è servito per costruire il tool workshop che ora ho utilizzato per riparare un po' i miei strumenti. L'unica cosa è che questo generator, mentre prima produceva 200 e i macchinari consumavano 300, ora produce 600 ma il macchinario ne chiede 5000! Questo! La fornaccia ne chiede 6000! Allora, io ne ho fatti un po' di quelli perché ho detto ah facciamo una bella farm e poi vi spiegherò perché e ne ho fatti 5. Ma 5 vuol dire comunque che mi producono 5 per 600 uguale a 1500, no uguale a 3000! Ma 3000 è la metà di questo in pratica, è la metà di quello che chiede questo macchinario da solo! Quando dobbiamo grindare e cucinare delle cose insieme e cuocere delle cose insieme vuol dire che mi chiedono 12.000 di elettricità, 12.000! Il che è assolutamente sproporzionato. Quindi le soluzioni sono due, o ne faccio una schiera senza fine di questi, cioè ne faccio 20, il che richiede un sacco di materiali e un sacco di farm e poi vi spiegherò come pensavo di strutturarli. Oppure, e perché non sono più dell'idea di fare il Jotermal Generator, oppure dobbiamo modificare il config di questo file, cioè del file di questo generatore, perché non è possibile che mi produca 600 e io consumi 5000! Cioè che impianto di energia devo fare scusa? Cioè lui aumenta di potenza, quindi dovrebbe essere più prestante. Non che fa tre volte tanto, ma quello me lo chiede dieci volte tanto. Ma di più, mi chiede 20 volte tanto come energia. Poi ok, sappiamo noi che c'è la possibilità di aggiungere una batteria e ridurre la richiesta di energia. Adesso non mi ricordo di quanto, però non ho ancora potuto controllare perché guardate quanto copper mi è rimasto. Sono adesso vi faccio vedere anche quello. E ho raccolto, avevo tipo circa 3 stack di copper e 5 stack di ferro. ne avrò, non ne ho nemmeno uno di ferro adesso e ho un'unità di copper. Fine. Fine. Tutte andate qua. Tutto, tutto per questi macchinari. Una cosa senza fine. Come potete vedere l'albero è cresciuto e ha eliminato il blocco, come vi dicevo. Ne ho parlato sul forum, cioè più che sul forum sul canale IRC. E mi hanno spiegato che è stato fissato nella versione instabile di Maintest. Quindi, boh, per ora non ho intenzione di mettermi la versione instabile, terrò questa versione e se per caso la prossima versione dovesse tardare ci penseremo in un altro momento. Per ora non è troppo grave. qui, niente, è rimasto tutto come prima. Ho raccolto il mais. Perché? Perché vi ricordate l'etanolo, no? Di cui avevamo parlato un po' nello scorso video perché è uno di quei prodotti che si può creare mettendo una bottiglia di vetro che si fa con del vetro, glass. Non mi ricordo esattamente la recipe ma è riutilizzabile ed non costa molto. Ecco, 5 unità di vetro mi danno 10 bottiglie. mi dà una bottiglia di etanolo che è un combustibile favoloso. Favoloso. Perché mentre una bottiglia di olio dura pochi secondi, questo qua, come potete vedere, dura tantissimo. Cioè, dura una vita e mezza. E quindi è un buonissimo carburante. Nel senso che, alla fin fine, praticamente andando a ciclo continuo, prima, visto che avevo bisogno di cuocere ferro e copper e fare degli alloy eccetera eccetera, l'ho fatto andare un sacco questo qua. E alla fine ho visto che quella mia farm là produceva grano più velocemente di quanto questo non lo bruciasse. Ok, qua c'è solo una fornace. Ma se per caso noi utilizzassimo 5 di queste fornaci e un... una piantagione, mettiamo forse il doppio di quella... Eh, ma forse dovrei farlo anche di più del doppio di quella. Sarebbe una grande farm che richiederebbe un sacco di risorse, però darebbe un ottimo contributo di energia. L'unica questione che è un po' problematica e che devo ancora capire come può funzionare è il fatto che qui lascia la bottiglia vuota, come potete vedere. E quindi ci deve essere un modo sia per metterglielo anche per toglierglielo. E non so se è previsto nella Technic e nella Pipeworks la possibilità di estrarre del contenuto da un generatore. Può darsi perché magari uno pensa a lava, cioè a occhio dovrebbe esserci una questione del genere, però non lo so, non lo so, si vedrà. Vedete, sono cresciuti tutti, tra l'altro qua, tutti i funghetti, però li lascio tutti qua. Finalmente, 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 sono iniziati a spreddare anche un po' le margherite qua. Sono dovuto andare a prenderne altre, non so, forse aveva bisogno che ce ne fossero di più. Praticamente qua stanno sprendando un sacco i fiori, qua ho messo gli arancioni e qua giù ho messo i blu, se non sbaglio, sì, infatti. In modo da avere abbastanza spazio per tutti. Qua tra l'altro mi è parso questa Poison Ivy. Ho messo su un, vi proietto che non parlo per tutto l'episodio, eh, una cesta d'oro, visto che ho trovato abbastanza oro e silver giù sotto, ci ho messo della cobblestone, visto che ero pieno di cobblestone nella cesta sotto e si era riempita in un nanosecondo, e in più ho fatto la cantina, come vi dicevo lo scorso episodio. Ho scavato qua sotto, adesso voi la vedrete dall'ascensore, ma immaginate che è tipo dieci piani sotto la nostra casa, e l'ho posizionata qua, il che può essere molto utile adesso magari per andare a produrre un po' di energia. L'unica cosa, appunto, come si diceva l'altro giro, è che... cioè no, l'altro giro, come si diceva un po' di tempo fa, o... ah, ho trovato la lava, ho trovato la lava. O faccio delle schiere immense di geothermal generator, o faccio delle schiere immense di farm con dei... dei furified generator, che... boh, anche quello sarebbe molto dispendioso come risorse. Forse sarebbe paradossalmente meno dispendioso fare 600 geothermal generator, ma... bisognerà vederlo. Io, guardate, ora come ora sono molto, molto, molto più propenso per modificare l'energia che viene prodotta, perché non è assolutamente possibile. Cioè, io mi faccio un farmone assurdo per quella roba là. Io chiedo davvero il vostro parere, anche, soprattutto i blocchi del 77 che commenta molto spesso. A mio parere è completamente fuori di testa, cioè che io debba farmi una farm infinita di un centinaio di piante di mais, con un centinaio di block breaker, con un centinaio di autocrafter, eccetera, eccetera, con quintali di tubi, per poi fare che cosa? Per poi alimentare quelle dieci fornaci che mi alimentino un sistema medium voltage, tra l'altro, medium voltage. Se passiamo a like voltage non posso immaginare che cosa cavolo debba succedere. Cioè, implode tutto, tipo, come cavolo? Boh. O forse conviene a questo punto utilizzare un converter e mettere del... mettere un generatore a like voltage, mettere un converter e quello a like voltage mi produrrà abbastanza? Non lo so effettivamente quanto... Vediamo un HV, innanzitutto come si crafta un high voltage generator. Quello più un high voltage che non è neanche troppo complicato, sono dei stainless steel, ok, questo non è complesso, i tubi, ok, l'high voltage cable non è un problema, stainless steel, questi forse mixed metal lingot, ma neanche niente di che, e niente di che, quindi non è particolarmente complicato come crafting. Ci va un attimo, ma, boh, per farne cinque non ci va neanche troppo tempo. Ho scavato di qua, come potete vedere, e niente, sono andato sia di qua che di là. Poi mi sono abilitato la corsa perché in questo modo posso muovermi rapidamente e ritornare a dove avevo iniziato a scavare senza dover iniziare sempre un nuovo tunnel. Sono andato avanti, 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 ho preso principalmente ferro e copper perché erano quelli che mi... Uh, ho visto del copper. Del ferro l'ho passato, lo so, ma perché quello per terra mi ero poi sto fatto di togliere, ma del copper serve. Perché, appunto, non ne abbiamo più. E niente, ho continuato di qua, ho continuato di là, poi ho trovato del... Forse ho già... No, non l'ho già passato da fare... Devo mettere un indicatore o un qualcosa di visivo che mi fa capire quando sono alla congiunzione perché altrimenti qua mi sparo tutto dall'altra parte e non mi accorgo, ecco, infatti, di arrivare qua. Ehm... Qua invece ho messo delle torce. Anche qua c'è un sacco di copper e di ferro da raccogliere, ma... Qua sono dovuto andare avanti di 700 blocchi da dove ero sceso per poter usare l'ascensore e non dover usare il teletrasporto. E quindi dopo un po' mi sono stufato di raccogliere tutto quello che avevo. Anche perché dovevo continuare a cuocere del ferro, perché... Uh, qua del copper, però... E questo lo prendo. Sì, anche questo per terra, ma perché non abbiamo più niente sopra, come avete visto, quindi... Tutto il copper che si trova è buona... No! Scusate, ho sbagliato a premere il tasto. Tutto il copper che riprendo adesso è un'ottima cosa. Sì, ce n'è altro. Adesso non voglio fermarmi. Ah, eccole qua. Queste torce qua, che ho messo tutte di seguito, stanno a indicarmi dove ho trovato della lava. Wow! E tra l'altro l'ho trovata per sbaglio, perché a un certo punto si è buggata la visuale e sapete quando... Capita, no? Che magari tutti i blocchi e per un attimo vedi il flash di che cosa è intorno, no? E ho visto della lava. Allora ho cercato un po' e l'ho trovata. Per fortuna, perché altrimenti anche tutto questo percorso che mi son fatto... Niente, 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 niente lava. Proprio, proprio niente. E... E... E boh. Quindi questo è quanto. Nel frattempo, come avrete potuto vedere, credo, dal mio inventario. Adesso andiamo a dormire. Ok. Grindiamo, vediamo subito a grindare il copper. Qua c'è bisogno di altre energie, sì. Dammi la bottiglia che ne facciamo uno nuovo. È un po' scomodo ora, come ora, però fornisce un sacco di energia questo, quindi è buono. È scomodo perché appunto uno ne consuma molta di più di quella che non ne produci e vabbè. Per ora è così. Tra l'altro non avendo neanche più copper non ho potuto fare dei cavi per mettere sotto la sfilza di generatori che avevo prodotto e... Però poi a parte che se non abbiamo uno qualcosa di automatico, non è che devo andare sempre giù sotto in cantina per mettere da cuocere e poi salire su. Quindi o facciamo la farm, è buon, oppure è buon. LOL. Come potete vedere, ho raccolto parecchio grano, quindi adesso possiamo andare a fare le bag, che saranno una cosa comodissima. Volevo farla on camera, questa, perché appunto ve l'avevo promesso ragazzini. Allora, noi abbiamo bisogno di quattro grandi che hanno due piccole, cioè due medie, e ognuna di quelle due medie ha due piccole. Quindi quattro per due è otto, otto per due è sedici. Quindi abbiamo bisogno di fare sedici piccole, se non sbaglio, no? Quindi per sedici piccole abbiamo bisogno di sedici... sedici, 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 ottimo, e sedici sopra. Ok, uno, due, tre, non si staccano e questo è un buon casino. La 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 la, sei, otto, nove, dieci, undici. A parte che anche se non le conto, la lana è giusta, quindi... Perfetto, ma per fare le medie abbiamo bisogno di due là in mezzo, scusate, due là in mezzo e poi cotone ai lati. Quindi, allora, uno e due, ecco qua. Uno e due, ecco qua. Così si fa con la grande? Sì. Ok, prima grande è andata. Seconda grande è andata. Ehi. No, scusate. Ecco qua che arriva la numero tre. E media. Continuo a sbagliare. Un cotone in più. Ecco qua la grande, ottima cosa. Allora, adesso andiamo a metterle qua. Zaino uno, zaino due, zaino tre e zaino quattro. Ok, nello zaino uno io andrei a mettere questo, andrei a mettere... Boh, quello. Per ora solo quello. Potrei andare a mettere anche il combustibile, ma ora come ora ne ho bisogno dietro, quindi vado a mettere solo quello per ora. Magari potrei mettermi del cibo supplementare che non sarebbe una cosa malvagia. Qua, ha finito di grindare? Sì, potevo anche metterlo a cuocere, già che c'erano. Guardate quanto consuma. Ah no, duemila questa. No, non è neanche troppo. È quella che consuma tantissimo. Eh, ma effettivamente sì. Questo è quello più dispendioso di tutti. Ma duemila potrebbe ancora starci, perché comunque se ne metto cinque di queste me ne producono tre mila. Quindi non è male. Poi in realtà ne ho sei, perché ne ho prodotto una di più per sbaglio. Dovrebbero essere quali? Altre cinque sì, infatti ne ho prodotto una di più per sbaglio, quindi ci sta. Ci può stare. Poi c'era anche l'altro di là che possiamo upgradeare. In realtà ho già di che upgradearlo, perché ho sbagliato. E quindi ho prodotto un affare in più, come potete vedere. E quindi possiamo già crearne una in più. Low voltage generator, ho bisogno di un cavo però, un caro cavo, due di questi. E quattro stainless steel. E possiamo andare a farlo, a fandolo. Allora così, così. Ormai forza di farli. Ho imparato il procedimento, infatti, ok. Quindi adesso ne abbiamo sette di questi e potrebbe essere un'ottima idea. Si potrebbe fare benissimo una farm giù sotto. Adesso vado ad abbattere quest'albero che mi sta sulle scatole. Non ti voglio più vedere qua in giro. E quindi più che la farm di alberi di cui parlavo tempo fa, del fatto di utilizzare l'olio che è prodotto dagli alberi, verrebbe molto più comodo a questo punto produrre del mais. Con una farm simile a quella che avevamo prodotto nella scorsa stagione. Dov'è che tengo? Ah, è qua. Perfetto. A parte che un po' potrei tenermelo, perché qua ho poco legno. Quindi teniamocelo. Andiamo a raccogliere un po' di zucco in modo da tenerne un po' nello zaino. Se per caso ce ne fosse necessità. E... No! Non avevo intenzione di mangiare della zucca adesso. Sono pieno, sono sazio. Sì, qua ci sarebbe anche bene la mod della fame. La mod della fame, perché con tutto questo cibo qua prodotto ci potrebbe anche stare il fatto di avere fame. Ditemi cosa ne pensate. Commentate anche riguardo a questo. Cioè se per caso vi interessasse la mod della fame. Cioè che aggiunge la fame come in Minecraft. Cioè alla fin fine ogni tot tempo devi mangiare del cibo. Altrimenti se la tua fame scende a zero, se la tua sazietà scende a zero, inizi a perdere salute. Allora, andiamo a prendere un'altra unità di mais. Sbaglio sempre chest qua. Ora come ora, non abbiamo tantissimo tempo, ma direi che qualcosina possiamo ancora farla. Io allora proverei a creare qualche altra cosa della farming. Vediamo qualche cibo. Farming. Allora, vediamo un po'. Che cosa ci ispira oggi? Qua, questo è interessante, ma avremo bisogno della neve. Quindi neve non ne abbiamo ancora. Perché siamo in una zona non nevosa e non ho ancora dei teletrasporti che siano posizionati verso zone nevose. altrimenti potrei anche creare un teletrasporto a sto giro e poi lo configurare per le varie posizioni. Ma direi che quasi quasi potremmo anche mangiare pane e cioccolato. Che dite? Facciamo un po' di pane e cioccolato. Tanto della farina credo che l'abbiamo, no? Sì, se guardo nella cosa sbagliata. Allora, farina ne abbiamo e il cioccolato dovremmo anche averne. Quindi facciamo una sana merenda. Anche se quando l'orario in cui esce il video non è tanto orario di merenda. più che altro di pranzo. Ma allora, togliamo questo questo copper e lo mettiamo là e andiamo a prendere il nostro panino. Ora craftiamo una bella barretta di cioccolato una bella barretta di cioccolato e ci mangiamo prima il pane prima il cioccolato prima il pane e poi il cioccolato. Ottima cosa. non ci abbiamo guadagnato niente, no? Però e visto che ci avanza qualche secondo beh, in realtà non tanto perché sono già passati i 20 minuti però il teletrasporto lo farei molto con piacere in camera e potrebbe essere molto comodo per il futuro. Tra l'altro trash can ci sono anche qua. Si potrebbe fare anche delle cose della home deco dovevo fare anche delle luci ma il tempo è sempre tiranno il tempo è sempre tiranno allora 6 potremmo farne quasi quasi 2 da tenere uno nell'inventario in modo che se per caso dovessimo trovarci in futuro in una zona che vogliamo memorizzare ci basterà poi soltanto fare cioè piazzare quel teletrasporto là allora abbiamo bisogno di 1, 2 1, 2 e poi abbiamo bisogno di vetro nel numero di 12 quindi prendiamo 12 unità di vetro facciamo all anche questo ma si che scemo devo fare prima i blocchi di mese ovviamente ma io sono scemo e quindi 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 adesso facciamo così 1 e 2 1 lo piazziamo qua io lo metterei simmetrico rispetto all'ascensore qua vicino al letto ci sta ma si va bene anche qua è tanto carino non è configurato allora a nome di questa stazione metterei casa anche se in realtà abbiamo con gli unified inventory il modo per teletrasportarci a casa ma è sempre carino avere qua il modo per teletrasportarsi altrove network mettiamo network principale ok adesso questo qua farà parte del network principale l'unico posto che abbiamo è quello quindi non andremo da altre parti però mettiamo questo nello zaino se per caso avremo bisogno di fare dei collegamenti per altri posti lo utilizzeremo detto questo abbiamo sforato parecchio anche questo episodio quindi io vi ringrazio per la visione vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e commentare riguardo a quello che avevo discorso cioè se voi credete che sia il caso di modificare il file di produzione dell'energia e se per caso per voi è il caso di quante volte ho detto caso aggiungere la mod che aggiunge la fame anche aggiunge lo dico aiosa quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio io vi auguro una buona giornata e ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti